metti agli occhiali perché sono mamma mia che capelli assurdi che c'ho vabbè dopo mi sistemo c'è l'ho trovato stavo pulendo il pc l'ho trovato dentro e ciao a tutti ragazzi bentornati nel primissimo video dopo tanto tempo e ovviamente iniziamo sempre come solito seguendo il format con qualcosa in mano tipo questa è una batteria che sto cercando di capire se funziona oppure no perché funziona ma non viene caricata quindi va bene quindi vi sto dicendo a breve adesso ricomincerò con i video con nuovi format nuovi video nuovo di tutto continueremo con le serie che abbiamo lasciato indietro le portiamo a termine e basta che così quelle sono archiviate e altra cosa stavo guardando un attimo la mia postazione che sto risistemando un casino assurdo in questo momento quindi non ve la faccio vedere prima di averla sistemata non ho più fatto video perché ero veramente pieno di lavoro la c'è il miccia che appena saltato sulla sedia ho il cuscino? no? no non gli serve il cuscino ecco la sdraiata comunque mimi ciao se vedete è un po' scuro se faccio così faccio così c'è un po' più di luce però c'è troppa luce qua dietro non mi piace quindi comunque quando andrò a risistemare cercherò di piazzare se riesco due luci qua mi spara flashano la luce da queste due latiche così non vado a illuminare troppo a stanza perché non mi piace vi faccio vedere quest'ultima cosa che adesso vediamo se si vede è una videocamera microscopica con dei visori apposto per le videocamere aiutami ok con cui andremo a divertirci parecchio vi spiegherò in futuro non adesso poi altre cose c'è questo cavetto qui altra cosa che vediamo se riesco a farvi sentirmi mi sono preso il google home e diciamo compiliamo molto bene insieme infatti mi sveglia le mattine e mi ricorda tutte le cose che devo fare quindi adesso ok google ricordami che devo fare uscire un video a settimana ok devo fare uscire un figlio a settimana quando vuoi ricevere il promemoria fra mezz'ora va bene te lo ricorderò alle 20.10 cavoli che bello ok google ciao ciao giulio bellissimo comunque eh sì a parte questo divertimento assurdo e è molto utile per quello comunque ci faremo un video dedicato anche su quello state tranquilli questa roba qua sparirà ve lo dico dalla mia scrivania è micio allora io e il micio vi salutiamo saluti dai che saluti ciao ciao guarda in camera ciao quindi noi vi salutiamo e vi ricordiamo di commentare iscrivervi e lasciare tutti i like sulle lecce buone charlie ciao